Buonasera, sto guardando le agenzie perché in realtà c'è una notizia che è arrivata proprio pochi istanti fa e che vi do subito, che potrebbe essere una svolta per il caso dell'omicidio di Budrio. C'è stato un gravissimo fatto di sangue intorno alle 19, però vi dicevo si è saputo solo poco fa, lungo la strada provinciale Mondonuova, circa 8 chilometri da Porto Maggiore, è stata uccisa una guardia giurata, una guardia provinciale e un'altra ferita gravemente. Il possibile killer potrebbe essere Igor il Russo, cioè quello che si sospetta essere il killer del barista di Budrio, contro il quale era scattata nelle scorse settimane una fortissima caccia all'uomo in tutta la zona del Bolognese e del Ferrarese, perché l'uomo come si sa è armato, è considerato molto pericoloso perché era già stato protagonista di diverse rapine molto violente nei mesi e negli anni scorsi proprio in quella zona. Ancora non si conoscono ulteriori dettagli, le agenzie ci raccontano solo che l'uomo, il presunto killer sarebbe poi fuggito a bordo di un fiorino bianco rubato a Molinella. Le forze dell'ordine stanno arrivando in maniera massiccia sul posto per una appunto caccia all'uomo che sta continuando, ma ripeto potrebbe essere lui il responsabile, il killer in questione responsabile dell'omicidio del barista di Budrio. La giornata in realtà oggi era stata tutta concentrata sulle questioni internazionali perché dopo lo shock per l'attacco in Siria e per l'attentato di Stoccolma di ieri, le questioni internazionali e soprattutto la conseguente lotta al terrorismo continuano ad essere di primissimo piano e dopo lo shock appunto oggi era stato il giorno delle analisi delle questioni politiche legate a questi due eventi che hanno in qualche modo cambiato la politica internazionale e soprattutto degli Stati Uniti. Ci sono delle novità importanti innanzitutto che arrivano dalla Svezia, innanzitutto l'uomo che è stato fermato ieri, è stato confermato dalla polizia tedesca, potrebbe essere il responsabile dell'attacco di Stoccolma. Si tratta di un uomo di 39 anni, Uzbeko, ma la cosa importante è che era conosciuto, era nei file dei servizi dell'intelligence svedese perché in qualche modo simpatizzante del sedicente Stato islamico. Secondo la stampa locale aveva addirittura pubblicato e postato dei messaggi a favore appunto del sedicente Stato islamico. Questo naturalmente ha riaperto la grande questione del controllo dell'immigrazione e soprattutto dell'integrazione di un certo tipo di ondate migratorie, proprio in quei paesi che si consideravano fino a ieri delle zone idilliacche in cui l'integrazione era realmente riuscita. Parleremo di questo, parleremo però naturalmente anche delle conseguenze dell'attacco americano in Siria perché si è detto da subito che era anche un messaggio nei confronti della Corea del Nord e della Cina. Corea del Nord che proprio questo pomeriggio ha risposto con una nuova minaccia. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto che l'attacco americano giustifica il programma nucleare di Pyongyang. Dunque una nuova minaccia, una nuova provocazione. Parleremo anche però di questioni interne perché oggi, sapete, è il giorno dei 5 Stelle riuniti ad Ivrea per una kermesse che affronta i punti fondamentali, cioè la politica dei prossimi mesi del movimento, con quell'obiettivo dichiarato in maniera diretta da Davide Casaleggio in un'intervista nei giorni scorsi, di raggiungere il 40% e dunque di provare a governare il paese naturalmente dopo le prossime elezioni. Per questo oggi c'è l'incontro a Ivrea con le establishment, sociologi, giornalisti e via dicendo, per capire quale possa essere questa nuova fase che archivia in qualche modo il periodo del cosiddetto Waffa Day del movimento 5 Stelle. Ma ci sono altre novità che sentiremo tra pochissimo, tra 30 secondi nei titoli. Dunque sarebbe l'uomo arrestato ieri il killer alla guida del camion che ha falciato la folla uccidendo quattro persone. Un uzbeko di 39 anni simpatizzante del sedicente Stato islamico avrebbe diffuso sui social materiale di propaganda dell'Isis. Sarà conosciuto dagli 007 svedesi. Nel camion la polizia ha anche trovato una borsa con dell'esplosivo e poco fa sono state arrestate altre tre persone. Dopo i missili americani non si fa attendere la reazione siriana, i caccia delle forze governative tornano a colpire nel nord del paese raid su Idlib e Racca contro le possazioni dei ribelli. Trump intanto pensa a nuove sanzioni contro il regime siriano ma resta molto teso il clima con Mosca. Il governo prepara la correzione dei conti per trovare i 3 miliardi e 400 milioni chiesti da Bruxelles. Pensa a tassare tabacco, giochi ma anche forse le bibite gassate e a colpire l'evasione dell'IVA. Misure che serviranno a liberare un miliardo per le zone terremotate e i dettagli in linea con l'Europa. Lo ha detto il vicepresidente della commissione dobrovskis. La convention 5 stelle a Ivrea per ricordare Gianroberto Casaleggio ad un anno dalla sua morte. Presenti tutti big, qui la politica ascolta, nessun paragone con la Leopolda. Dicono non c'entra niente, lo dice apertamente Di Maio che non nasconde l'obiettivo del movimento, cioè quello di puntare al 40% per governare da soli. E intanto nel PD continua la campagna per le primarie. Orlando e Napoli che lancia la sfida a Renzi proprio sulla legge elettorale, non si può andare al voto con quella attuale, dice chi pensa di farlo se ne deve assumere la responsabilità. E gli risponde Renzi noi non abbiamo i numeri per cambiarla, il sistema vuole la palude, replica appunto il segretario uscente. Buonasera, ben trovati. Allora vi dicevo che oggi la giornata è stata tutta concentrata con gli occhi verso la Svezia, verso Stoccolma, perché anche se i morti non sono stati tanti, numerosi come quelli di Londra, di Berlino e di Nizza, naturalmente ha stupito e scioccato non soltanto il paese ma anche la dinamica di quel che è accaduto ieri a Stoccolma. E soprattutto si cerca di capire che cosa ci sia dietro e chi sia effettivamente l'attentatore dell'attacco di ieri. Quello che è certo che ha confermato oggi la polizia è che l'uomo fermato, arrestato è responsabile, forse non il solo però, di quell'attacco. Lo conoscevano, il suo nome era nei file dell'intelligence svedese da tempo, anche se nessuno sa o dice da quanto tempo vivesse in Svezia. In ogni caso è difficile definirlo un insospettabile. Gli indizi del resto non mancavano, sul suo profilo Facebook aveva già postato materiale di propaganda dell'Isis e messo un mi piace a una foto del massacro della maratona di Boston di quattro anni fa, ma evidentemente non è stato sufficiente per fermarlo in tempo, prima che potesse entrare in azione rubando un camion e lanciandosi sulla folla nell'area pedonale in pieno centro a Stoccolma per compiere una strage. Un film già visto per le modalità e probabilmente per le falle nell'attività di prevenzione dei servizi di sicurezza. Nulla indica che abbiamo preso la persona sbagliata, ha spiegato il capo della polizia Dan Eliasson, con un giro di parole che lascia pochi dubbi. Per gli investigatori svedesi, l'uomo di 39 anni di nazionalità Uzbeka, padre di quattro figli, arrestato ieri in un negozio subito dopo l'azione terroristica che ha provocato quattro morti e numerosi feriti, è l'attentatore. Il video girato da una telecamera di sorveglianza all'interno di un negozio mostra il panico, la fuga della gente e riprende il passaggio ad alta velocità del camion utilizzato per fare strage. La polizia non esclude la possibilità che con lui vi fossero dei complici e poco fa, in un blitz alla periferia sud di Stoccolma, sono stati bloccati tre presunti fiancheggiatori a bordo di un'auto. C'è anche la conferma che l'oggetto trovato nel camion, lanciato contro l'ingresso di un centro commerciale, potrebbe essere una bomba o un ordigno incendiario. L'attentatore si sarebbe ustionato nel tentativo di farlo esplodere per poi allontanarsi rapidamente. È stato fermato in un negozio alla periferia della capitale svedese, si comportava in modo strano, aveva tracce di vetri rotti sugli abiti e portava con sé un passamontagna per la polizia. È stato subito chiaro che si trattasse della stessa persona fotografata mentre fuggiva dalla zona dell'attacco con un giaccone verde e un cappuccio in testa. Le condizioni di quattro dei feriti nell'attacco rimangono ancora molto critiche, due sono ricoverati in terapia intensiva. Questa mattina sul luogo dell'attentato ha deposto delle rose la principessa vittoria di Svezia che, commossa, ha spiegato come in qualche modo la Svezia resisterà a tutto questo. Naturalmente il fatto che il presunto attentatore sia stato e sia tuttora un simpatizzante del sedicente Stato islamico ha riaperto la questione del controllo dell'immigrazione, dell'integrazione sul territorio, ma ha anche riaperto l'attenzione su quel fronte, peraltro su cui i flettori si erano già puntati nelle ore precedenti, cioè quello della lotta al sedicente Stato islamico sul terreno in Iraq e prevalentemente in Siria. Dopo l'attacco americano la domanda che ci si è posta è se si sia trattato la decisione di Trump di quello che viene definito one shot, cioè un'operazione dimostrativa con dei messaggi sotterranei molto chiari, lo abbiamo detto da subito, indirizzati alla Russia di Putin, indirizzati alla Corea del Nord, indirizzati a Teheran, anche indirizzati all'interno degli Stati Uniti, a chi Trump ha cercato in qualche modo di frenare le opposizioni interne, le opposizioni all'interno del suo stesso Partito Repubblicano. Oppure se si sia trattato dell'inizio di una nuova strategia effettiva nei confronti della battaglia contro il sedicente Stato islamico e più in generale contro il terrorismo. Quel che è sicuro è che fino ad ora non ci sono state ulteriori reazioni se non diplomatiche, cioè Trump ha chiesto ufficialmente nuove sanzioni nei confronti di Damasco, mentre dal terreno, dalla Siria sono arrivate reazioni militari proprio del governo di Assad. E la domanda del momento, del giorno dopo l'attacco alla Siria da parte di Donald Trump, si è trattato di un semplice ammonimento, di una ritorzione a cui non vi sarà seguito o è l'inizio di una nuova fase di intervento? Se lo chiedono tutti, in Siria e fuori, dai sopravvissuti al massacro con gas letale di Khan Sheikhoun, che ha motivato l'ordine di bombardamento lanciato dal presidente americano alle cancellerie di Mezzomundo sino al Parlamento statunitense. Secondo il senatore democratico del Maryland, Ben Cardin, i vertici del Pentagono hanno programmato un'unica missione contro la Siria e per adesso non ce ne sarebbero altre in agenda. Mentre secondo Marco Rubio, collega di partito del presidente, anche lui candidato alle recenti elezioni dominate da Trump, il Parlamento dovrà essere maggiormente coinvolto, perché può dare un contributo importante in crisi come quella in corso. Per la cronaca l'ha ricordato che l'ordine di attacco ad un paese straniero è stato dato da Trump senza l'approvazione dell'Assemblea di Washington, come è accaduto invece in passato. Per adesso l'amministrazione starebbe puntando su una nuova serie di sanzioni contro Damasco per indebolirlo ulteriormente e non stuzzicare con altre operazioni militari la Russia, alleata indissolubile della Siria di Bashar al-Assad. Questa nelle immagini è la fregata russa della flotta del Baltico Admiral Grigorovich, che da 24 ore Mosca ha allertato e inviato nell'area di mare antistante la costa siriana che affaccia sul Mediterraneo. L'azione di giovedì notte che ha visto due ufficiali donne al comando delle unità navali americane impegnate nel bombardamento sulla Siria non ha comunque interrotto l'attività aerea della base di Shairat, colpita dai Tomahawk americani. Sin da ieri infatti prima i jet da combattimento ed oggi i cacciabombardieri siriani sono tornati a colpire aree in mano all'opposizione nel nord del paese. Poco fa è infine arrivata la prima reazione all'attacco di ieri da parte del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Pyongyang definisce l'attacco americano contro la Siria inaccettabile e conferma la validità della sua decisione di dotarsi, sviluppare e rafforzare i suoi armamenti nucleari. L'amministrazione Trump, dicono, i nordcoreani non è diversa da quelle precedenti. Insomma, parole pronunciate dall'Asia sicuramente non accomodanti. Come era prevedibile, peraltro, tra l'altro la possibilità di scongiurare un eventuale ulteriore intervento militare americano sul terreno siriano dipenderà anche molto dalla reazione dei cosiddetti ribelli, da quel magma di organizzazioni che cercano di spodestare Assad oramai da sei anni, perché chiaramente potrebbero avere interesse a chiedere un maggiore coinvolgimento americano. Dunque, in una situazione così incerta e così complessa come quella siriana, molto dipenderà dagli equilibri anche interni. Ma veniamo alle questioni italiane. Vi dicevo nell'apertura che ci sono delle novità importanti, una sorta di buon viatico da parte dell'Europa nei confronti di quello che è l'appuntamento forse più importante del nostro governo dei prossimi giorni, delle prossime settimane, cioè il varo di quella manovra correttiva che ha chiesto l'Europa per far tornare i conti. Il vicepresidente della Commissione europea, Dobrovskis, ha detto che la manovra che gli è stata prospettata dal ministro dell'economia Padoan risponde alle richieste di Bruxelles, anche se in realtà, proprio nelle ultime ore, è venuta fuori una nuova polemica che riguarda la questione, diciamo, l'aspetto da dove verranno presi questi soldi, perché si ipotizza una tassa che non a tutti piace. Sentite. A voler pensare male, si potrebbe ipotizzare ad una cortina di fumo per coprire l'arrosto. L'arrosto è la manovrina correttiva da 3,4 miliardi di euro chiesta da Bruxelles che il governo varerà questo martedì assieme al documento di economia e finanza antipasto della manovra del prossimo anno. Il fumo è la tassa sulle bevande gassate e zuccherate che il governo riporta alla Repubblica starebbe per varare per fare cassa, neanche poi tanta, 200 milioni. Rapidissima la levata di scudi delle aziende del settore, dei sindacati, del ministro dell'agricoltura Martina e del re del caffè Riccardo Illi che parla addirittura di metodo Montessori per i cittadini. Questa misura verrebbe infatti presentata per motivi salutistici per contrastare obesità e diabete. Vedremo martedì quando Gentiloni, l'ha annunciato oggi a Milano, libererà oltre un miliardo di euro per le zone terremotate. Di sicuro la tassa sulle bevande gassate sarebbe solo uno dei tasselli di questa manovrina di primavera. Giusto ieri la Commissione europea ha dato di via libera all'estensione fino al 2020 il cosiddetto split payment, il meccanismo che consenta agli enti pubblici di pagare le fatture ai fornitori privati al netto dell'IVA, versandola direttamente all'erario. Un giochetto contabile per combattere l'evasione IVA che vale poco più di un miliardo. 600 milioni dovrebbero poi arrivare dai tagli di spese dei ministeri. C'è poi il ritocco delle accise sui tabacchi che dovrebbe valere qualcosa come 200 milioni, ma nessuno lo sa con certezza perché dipende dall'effettivo consumo che potrebbe anche calare. Più tasse sul settore dei giochi, tra i 7 e i 900 milioni. La rottamazione dell'elitico il fisco, l'anticipo della gara statale per aggiudicarsi la lotteria gratta e vinci. I segnali in codice che arrivano dall'esecutivo europeo sembrano positivi. Dall'Ecofin di Malta, il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrowski ha già anticipato che le misure correttive alla manovra illustrate da Paduan sono in linea con quello che abbiamo discusso e che abbiamo raccomandato. Il nostro ministro dell'economia ha aggiornato Dombrowski se il commissario agli affari monetari Moscovici sui contenuti del DEF, sui dettagli della manovra correttiva e sullo stato delle banche. E allora, oggi si è conclusa proprio poco fa la kermesse del Movimento 5 Stelle organizzata ad Ivrea più o meno a un anno dalla morte di Gianroberto Casaleggio. Una kermesse che potrebbe segnare uno spartiacque tra il periodo del cosiddetto Waffa Day e invece un periodo politicamente diverso con aspettative e scopi, obiettivi diversi cioè quello di governare. L'ho detto molto chiaramente Davide Casaleggio in un'intervista nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle ha intenzione di presentare la propria squadra di governo prima delle elezioni per poter permettere ai cittadini di scegliere chi eventualmente governerà con l'obiettivo diciamo di ottenere quella quota, quel 40% necessario per poter governare da soli. Per questo è necessaria una discussione con gli apparati, con l'establishment chiamateli come volete e quindi sociologi, politici, giornalisti che è andata in scena appunto proprio oggi. Pronti a governare da soli puntando al 40% unica alleanza possibile quella con i cittadini il Movimento 5 Stelle scommette sul dialogo con la società civile dalle officine H dell'Olivetti di Ivrea lì dove 30 anni fa Gianroberto Casaleggio mosse i suoi primi passi da manager a un anno dalla sua scomparsa tutto accade sul palco ma anche a margine in platea c'è Beppe Grillo dribbla le domande dei giornalisti accanto a lui quasi tutto lo Stato Maggiore qui si cresce, si parla di soluzioni mentre altri parlano di spartizioni di poltrone e di congressi dicono onorevoli e senatori guai a definirla un onore a Leopolda Ivrea dunque il nuovo pensatoio a 5 Stelle? un po' la vostra Leopolda è questa? questa è da querela no assolutamente no facciamo tantissimi di questi eventi poi questo evento magari raccoglie tante persone però sono 4 anni che noi facciamo convegni il Movimento fa questo parla con esperti, con la società civile poi è compito dei parlamentari trasformare le idee e le soluzioni che stanno già circolando in progetti di legge Davide Casaleggio figlio del cofondatore del Movimento e gestore della piattaforma Rousseau fa sapere che la squadra di governo sarà pronta prima delle elezioni ma non sarà lui a definire gli incarichi oggi non parliamo di governo ma di futuro dice il vice presidente della Camera Luigi Di Maio che interviene sulla questione siriana tenete presente che i missili lanciati ieri dagli Stati Uniti ci costano circa 60 milioni di dollari se avessero sganciato 60 milioni di dollari in banconote verso le popolazioni in difficoltà non le avrebbero aiutate di più e non lo dico solo agli americani lo dico anche ai russi al centro del dibattito anche la democrazia diretta a due giorni dall'atteso pronunciamento del Tribunale Civile di Genova sul ricorso d'urgenza presentato dalla candidata sindaca Cassimatis che aveva vinto le comunarie e poi sospesa ed espulsa da Grillo per comportamenti contrari ai principi del movimento ed estromessa dalla corsa sindaco per un vizio di forma ora naturalmente tutti vorrebbero vincere le prossime elezioni il punto vero è che non è chiaro con quale legge elettorale andremo a votare perché come è noto da 12 anni si è in attesa in realtà di una legge oggettiva che sia per la Camera che per il Senato adesso si tratterà di armonizzare perché esiste soltanto quella per la Camera nelle ultime settimane si era anche diffusa la possibilità di un decreto legge che potesse regolamentare questa materia la qualcosa ha fatto saltare i costituzionalisti perché come sapete sia per la legge Spadolini che per la Carta Repubblicana è impossibile che un decreto legge stabilisca le regole di una legge elettorale si può occupare soltanto le minuzie come per esempio viene disegnata una scheda detto questo non c'è l'accordo per trovare una legge condivisa, comune nemmeno all'interno del Partito Democratico che tra l'altro ha a che fare anche con una scissione interna che proprio su questo oggi infatti si è nuovamente confrontato tra Renzi e Orlando Matteo Renzi da Bari ripete non facciamo la legge elettorale perché non abbiamo i numeri in questi anni abbiamo avuto un governo di coalizione ed è un miracolo aver portato a casa i risultati che abbiamo ottenuto ma il sistema istituzionale vuole la palude vuole che siano tutti fermi perché in Italia sono più abituati a contare i veti che non a contare i voti l'ex premier risponde così a chi lo accusa dalle opposizioni ma anche dalla maggioranza e dall'interno dello stesso PD di non voler davvero varare una nuova legge elettorale e di puntare piuttosto al ritorno alle urne al più presto possibile con le regole riscritte dalla Corte Costituzionale per la Camera da estendersi anche al Senato come chiedono anche i 5 Stelle la nuova legge elettorale torna a infiammare alle primarie del Partito Democratico Renzi auspica che nel PD si ritrovi la generosità i 5 Stelle e qualsiasi cosa accada si chiudono a testuggine mentre da noi il primo che ti pugnala le spalle è il tuo compagno dice l'ex premier da Napoli Andrea Orlando manda un messaggio chiaro a Renzi se qualcuno vuole andare a votare con questa legge elettorale con i capilista bloccati se ne assuma la responsabilità le conseguenze saranno un nuovo voto dopo 6 mesi oppure a larghe intese e noi non vogliamo né l'uno né le altre dove ti sei rintanato Matteo? dove ti sei rintanato? esci fuori, confrontiamoci facciamo vivere questo congresso nel paese e se Renzi sembra chiudere le porte a una coalizione di centrosinistra che dovrebbe coinvolgere anche in fuoriusciti democratici e progressisti il ministro della giustizia insiste sulla necessità di un'alleanza il segretario del partito non potrà essere il candidato premier io propongo primarie aperte per tutta la coalizione di centrosinistra in calza anche di legge elettorale parleranno domani a Roma alla convenzione del PD Renzi, Orlando e il terzo candidato per la segreteria Michele Emiliano la presenza del governatore pugliese che ha subito un'operazione al tendine d'Achille e in forze potrebbe intervenire con un collegamento online ma c'è anche un terzo soggetto il centrodestra e in particolare la parte più moderata del centrodestra perché spesso si parla più soprattutto per le uscite e le provocazioni della parte più estremista naturalmente mi riferisco a Salvini e alle sue dichiarazioni però quel centrodestra moderato invece oggi vuole contare soprattutto far sentire la propria voce e proprio per questo ha deciso di lanciare a sua volta la pratica delle primarie i moderati devono rialzare la schiena sono tutti in adorazione delle sciocchezze che aspettiamo da Grillo e da Salvini e i moderati sono ripiegati su se stessi per cui una grande mobilitazione popolare i centristi ci provano a uscire dall'angolo con il nuovo soggetto di alternativa popolare ex nuovo centrodestra a Roma si riuniscono Alfano e Casini Verdini Zanetti di scelta civica l'ex leghista Tosi si riparte dalle primarie di centro precisa Beatrice Lorenzin senza Berlusconi che oltre a rifiutarle da sempre ormai avrebbe scelto un'altra via rispetto ai moderati Berlusconi ha un suo campo su cui ha deciso di lavorare che è il campo della Lega e di Fratelli d'Italia e che quindi non è sicuramente un campo di stampo moderato siamo in campo contro l'antipolitica dice Flavio Tosi il centro deve essere alternativa credibile alla demagogia distruttiva Enrico Zanetti più che un proporzionale crede in una legge elettorale tipo Mattarellum in una logica quindi di coalizione che guarda il PD ci sta in quest'ottica la dichiarata morte nel nome e nei fatti del centrodestra il centrodestra come lo abbiamo conosciuto e il centrosinistra come lo abbiamo conosciuto sono finiti non ci sono più noi dobbiamo ricreare un'area non lo possiamo fare a freddo le primarie saranno il calore che riscalderanno la fusione di tanti progetti Irri dell'iniziativa Giorgia Meloni Alfano Casini Verdini Tosi suggeriscono una definizione unificante le primarie dei Volta Gabbana da Torino si associa Matteo Salvini che prevede un ritorno alle urne in autunno e propone la stessa coalizione che governa Veneto e Lombardia con Forza Italia e Fratelli d'Italia mentre confessa di nuovo tutta la sua delusione di trampista tradito se spara missili a casaccio Trampa non mi piace e sulle armi chimiche voglio una prova si faccia mandare l'autopsia di una delle creature gasate dice l'ex leghista sindaco di Verona Tosi Allora vi dicevo in apertura che c'era stato un gravissimo fatto di cronaca ed è si era la caccia di Igor il Russo l'uomo armato che è considerato il possibile responsabile dell'omicidio di Budrio bene proprio poco fa la nuova Ferrara il giornale ha pubblicato che è stato catturato Igor il Russo l'uomo è stato bloccato dai carabinieri tra Marmorte e Molinella dopo un'imponente caccia all'uomo nella zona con l'intervento di tutte le forze dell'ordine è stato inseguito per le campagne dove aveva appunto ucciso una guardia provinciale ferito gravemente una guardia volontaria fino a Molinella era braccato appunto da quando era stato considerato il responsabile dell'omicidio del barista Davide Fabri a Budrio con la pistola che era stata sottratta ad una guardia giurata dunque sembrerebbe conclusa vedremo nelle prossime ore se ci sarà la conferma questa è la notizia pubblicata proprio pochi istanti fa dal giornale la nuova Ferrara vi dicevamo all'inizio della questione di Stoccolma di quanto la persona che è stata fermata considerata responsabile dell'attacco in Svezia fosse una persona in realtà conosciuta e dunque in qualche modo parzialmente integrata nel territorio questa questione ha riaperto la questione dell'integrazione considerata soprattutto dagli analisti anche nei paesi del nord dove l'integrazione è maggiore che nei nostri considerato appunto l'unica forma preventiva contro gli attacchi terroristici naturalmente l'integrazione prevede non è facile da fare prevede delle manovre piuttosto complicate perché l'integrazione in un paese occidentale va a impattare contro quelle che sono le caratteristiche culturali e sociali di chi viene per esempio da paesi lontani paesi medio orientali in particolare per quel che riguarda il diritto alla famiglia l'utilizzo diciamo i rapporti familiari soprattutto nei confronti delle donne e dei figli nel nostro paese c'è stato e è accaduto un caso che è esemplare in questo senso perché a Torino la polizia è intervenuta per salvare una ragazzina di 15 anni di origini egiziane che era stata in qualche modo promessa sposa in un matrimonio combinato con un uomo di 10 anni più grande di lei ma lei ha avuto la forza e il colaggio di riprendersi la propria libertà e di denunciare parla aiutata da un interprete e racconta la sua versione la madre della ragazzina di origine egiziana in Italia da 7 anni che è stata allontanata dal tribunale dei minori di Torino dalla famiglia protetta ora in una comunità perché si è opposta a un matrimonio combinato niente di male quindi la ragazza sapeva tutto era d'accordo dice la donna non l'avremmo mai costretta ma arrivano troppo tardi queste parole pronunciate in arabo non nella lingua l'italiano che parla ormai abitualmente alla figlia 15enne quella usata per chiedere aiuto alla sua compagna di classe l'amica che poteva iniziare ad aiutarla e così ha fatto a un passo dal fidanzamento con un uomo sconosciuto un commerciante egiziano di 25 anni alla presenza dell'insegnante la bambina in lacrime ci ha raccontato la sua storia in effetti la famiglia aveva già organizzato per di lì a 3 o 4 giorni la cerimonia di fidanzamento la bambina assolutamente era contraria a questa cosa e poiché aveva manifestato il suo dissenso la mamma le aveva detto che se non accettava questa cosa sarebbe stata portata in Egitto e affidata alla famiglia del futuro sposo la madre della quindicenne rimasta vedova 39 anni altri due figli da crescere viva a barriera di Milano quartiere periferico di confine a Torino accoglie numerose comunità straniere con livelli di integrazione differenti sua figlia ha saputo usare gli strumenti giusti confidarsi con un'amica sveglia e affidarsi al numero d'emergenza 114 quello che raccoglie gli appelli e le segnalazioni dei minori in difficoltà sono stati loro ad arascolto al timore di quella ragazzina descritta dalla preside dell'istituto professionale che frequenta come un pulcino spaventato ma comunque determinato nel continuare gli studi quelli che la madre voleva farle interrompere perché una volta sposata non le sarebbero serviti fioccano dagli esponenti del centrodestra i commenti che definiscono medioevale questa vicenda la comunità egiziana torinese precisa che il matrimonio avviene solo con il reciproco consenso degli sposi sempre più frequentemente comunque i tribunali dei minori in italia intervengono con decisione su episodi di scontri culturali tra figli e genitori indicando e seguendo le norme del nostro diritto spesso vi parliamo ahimè di guerra di bombardamenti di lotte di guerriglieri eppure oggi invece facciamo il contrario perché vogliamo raccontarvi una storia che si è chiusa una storia che è stata terribile soprattutto nel secolo scorso ormai è il caso di dire perché l'organizzazione indipendentista bassa Euskadi e Ita e Scatasuna meglio nota come ETA da oggi è ufficialmente un'organizzazione disarmata così come aveva annunciato ieri ufficialmente in questi campi del sud della Francia oggi si è chiusa una pagina cruenta della storia del novecento perché l'Eta ha mantenuto la promessa e ha rivelato i nascondigli dei suoi dodici depositi di armi segreti e da qualche ora i nazionalisti baschi sono ufficialmente e praticamente un movimento disarmato gli esperti dell'antiterrorismo francese stimano che negli arsenali possano esserci tre tonnellate di esplosivo fucili mitragliatori e oltre cento pistole l'elenco dei siti è stato consegnato alla polizia francese nel municipio di Bayon dai mediatori scelti dall'organizzazione stessa nel pomeriggio poi la cerimonia con migliaia di persone che hanno celebrato la decisione dei separatisti baschi completamente inattivi da più di cinque anni che avevano annunciato la svolta in una lettera che ieri ha sorpreso la comunità internazionale in cui hanno spiegato di voler consentire ai baschi di raggiungere pace e libertà la missiva tuttavia non contiene alcun riferimento alla dissoluzione definitiva dell'organizzazione che è la richiesta pressante che il governo spagnolo avanza da anni non a caso oggi Mariano Racoy ribadisce che i terroristi non possono sperare in alcun trattamento di favore tanto meno nell'impunità per i crimini commessi e che il disarmo segna la vittoria della democrazia iberica nessun onore delle armi quindi anzi la richiesta che l'ETA chieda perdono alle vittime e che scompaia invece di organizzare operazioni mediatiche per nascondere la disfatta e cercare di ricavarne qualcosa un futuro politico soprattutto che è proprio quello a cui ambirebbe Euskadi Tascatasuna movimento nato alla fine degli anni 50 per lottare per l'indipendenza dei baschi e contro la dittatura di Franco uccidendo un migliaio di persone in oltre 2000 attentati insomma ogni tanto c'è una notizia positiva che abbiamo il piacere di darvi dopo di noi come sempre 8 e mezzo ospiti questa sera di Lilli Gruber sono Corradino Mineo Nicola Molteni e Dario Nardella noi ci fermiamo a qualche istante più tardi eccoci allora vi saluto ricordandovi la notizia che vi ho dato nel corso del giornale cioè che sarebbe stato catturato Igor Vaklavic il presunto killer di Budry ho detto Igor il russo che era ricercato da una settimana si sarebbe macchiato anche di un altro gravissimo delitto avrebbe ucciso una guardia giurata e un'altra guardia volontaria che si trova in gravissime condizioni sarebbe stato appunto catturato dopo questo delitto ed è lui come sapete il possibile presunto responsabile dell'omicidio di Budry vi ringrazio vi lascio 8 e mezzo se volete ci vediamo domani poco prima delle 20 buona serata